Parliamo di Ferrara e di idrovia, perché la Ferrara del futuro si aspetta che ci sia l'idrovia. A che punto siamo? L'idrovia sarà di là da venire oppure nell'immediato futuro di Ferrara ce la possiamo aspettare? Ce la possiamo aspettare e io rimango convinta che l'idrovia sia un'opportunità e non uno spreco e ci tengo a ribadirlo. Certo, innegabilmente c'è stato uno stop legato al riordino delle province. La provincia di Ferrara era stazione appaltante dei lavori dell'idrovia, in tre anni ha appaltato circa 80 milioni di euro, poi dal 2014 tutto si è fermato. Adesso le competenze sono state riassestate, sono in capo alla regione e all'agenzia regionale. L'idrovia continua ad essere una priorità anche per la regione al punto che si sta finendo di fare i progetti e il 2019 sarà l'anno della svolta, a partire anche dal dragaggio della Darsena di San Paolo. Quindi c'è stato uno stop importante rispetto al quale stiamo rilanciando convintamente. Adesso in regione chi si occupa esattamente di fare davanti i lavori? L'assessorato alle infrastrutture di Raffaele Donini che è molto concentrato su tutte le sue deleghe, ma in particolare su Ferrara e su questo tema, insieme all'agenzia regionale che ha la competenza per finire la progettazione per fare i bandi. Grazie. Grazie. Grazie.